Perché scegliere un architetto in tre punti? Punto 3. Come farlo rendere al massimo. L'architetto non è qualcosa da far rendere, ma far sì che esprima il meglio di sé. Dipende soprattutto da te. Una buona architettura nasce da una buona collaborazione. È quindi necessario che entrambi facciate la vostra parte. Per quanto ti riguarda, devi avere le idee chiare su quello che vuoi, su quanto vuoi spendere e sul tempo che puoi dedicare al progetto. Così facendo, l'architetto saprà in che misura potrà contare su di te e potrà organizzarsi per rispettare gli impegni che prenderà nei tuoi confronti. Insieme dovrete prendere decisioni importanti. Quindi dai risposte alle domande e rispetta la sua professionalità con considerazione delle sue opinioni, attenzione verso i tempi che ti vengono richiesti e del budget concordato per avere un rapporto veramente proficuo. Insomma, per farlo rendere al massimo dovrete essere in due. Grazie a tutti.